no ferie o mio dio ci sono cresciuti dei giganteschi alberi dietro casa ma io dovevo mangiare siamo arrivati a 16 mio caro 16 taglia in cazzo ci mette una vita sta cacchio le fornace no come si fa l'induction fornace cazzo ne so va a guardare no però sono un po' uscita di testa questo lavoro questo lavoro mi rende veramente nervosa non mi tratta come una donna tu sei nervosa no ma io c'ho il ciclo amore ah ok peggio quindi state attento perché se me cazzo mamma mia tipo vedi esce dal minecraft diventa pure nella vita reale e mi dice un cazzotto tramite minecraft i'm on my period gish allora chissà quanto legno c'ho ti ricordi nella osian de nico nico che c'era tipo lui che voleva sempre le mele si mi sono mangiato le mele porca troia oh alpè ma che ti sei mangiato io le mele cosa scusa le mele le mie mele mi avrebbe ucciso le mele oddio allora quanto da una mela ammazza quanto da una mela mo capisco perché stai a mangiare mele ecco ecco dillo a Nicolo che è ancora uncazzato stop è un scipazzo pazzo io so pazzo so pazzo cazzo ridi io so scipazzo per davvero mia è finta perché? perché so diventare lo schiavo della gomma lo schiavo della gomma quanto sei arrivato? a 18 tipo 18 ammazza ammazza è tanto o poco è parecchio visto che ci metti in sacco di tempo ci metti in sacco di tempo semplicemente perché i golden shovel e i golden pickaxe non sono cumulabili quindi li devo rimettere ogni volta nella project workbench che palle che palle papone ho finito la gomma stupida plastica ok allora quindi rega sta per esplodermi il cervello non lo so però esplode da solo digliela a lui non vuole sentire ragioni sta per esplodere sta per esplodere ti fai male fermate sta per esplodere boom è morto mi spiace signora ha perso paziente si 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 è bene? eh no ma grazie di interessamento prego cala il sipario allora mo un diamante io pure sto abbastanza uscipando gli stessi avanti e indietro per craftare roba su roba su roba che crea roba che scopa roba due tre quattro poi altra birra vuoi altra birra no mamma di fumare il pancino che cazzo dici che cazzo dici il massimo la birra me lo fa stare meglio il pancino resonant tender ma che cazzo è come si fa il resonant tender resonant ender enderpearl vabbè siamo nella merda ah ma va martello di posizione del cazzo serve servono l'enderpearl per fare il il tu sai cosa ok il non mi viene il nome cosa per fare il l'energy tesseract servono le underpearl t'attacchi a cazzo non ci c'è bello quant'erano il totale quelli che dovevo craftare 22 manca uno no la scelta vanno bene pure così no si 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 va bene ma il mio era un calcolo in eccesso sti cazzi 100 li ha 22 sono pure esagerati taccito non lo devi di un attimo prima ci ho pensato troppo tardi energy scusa albè scusa scusa sta ceppa no comunque niente scusa te devi dire andata così ormai come l'hai fatta apposta dai no che non l'ho fatta apposta porca troia ho sbagliato 3 porca troia cioè come che vuol dire sbagliare aspettate che c'è un altro error rubber cioè se fa un altro error rubber come si si oddio ovviamente se se tu non finis cioè in teoria ti ho già perso eh sei morto quanto ormai non comunichi più mi parli quanti dovevo fare quanti dovevo fare come ricordo enderpearl io ne faccio un altro e poi basta scusa aspetta un attimo 1600 m jaul no 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 si una perla ne fa 250 al beh sia il cazzo che vuol dire che siamo nella merda un enderpearl che non ho fatta io mo ci abbiamo 250 megabyte de mega boh non lo so che cazzo di unità di misura è oddio al beh che vuoi siamo nella merda perché perché ci servono altre una una allora tre arriva a mille altre otto enderpearl per fare un energy tesseract no no altre sette per fare che no altre altri quattro dobbiamo uccidere gli enderman al beh vai in giro e uccide gli enderman e io piglio il mio postino perché 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 se no non possiamo fare gli energy tesseract per fare che per trasferire energia a tutto quello che abbiamo per quale motivo perché se no senza energia elettrica non funziona niente perché perché sei un coglione perché perché sei un coglione no da me insultare ma si albertino caro senti po' la la lead dove sei il brutta merda ho lavorato dieci minuti per fare ste cose pigliate lì no non li voglio no 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 al beh no 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 olio cuore lascia lì dentro una cassa al beh per il momento non li possiamo utilizzare te c'è meno dai fa il serio prendi la prendi o poppea o kit no poppea no perché vabbè o prendi slash o prendi kit come le pigliamo beh è facile cerchi dal tuo culo e prima o poi è uscita qualcuna che devo fare cerca nel tuo culo prima o poi ce ne sarà sempre no non ce l'ho già visto hai controllato bene è bello profondo si boh non so forse c'è un modo per fare l'enderpearl ball oh si 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 io amo questa moda amo questa moda viva il mio voto. viva il mio voto perché non mi hai dato un po' di quel fumo che hai là perché è solo mio no si scherza perché non c'è sembra avanzato guarda guarda dentro la crafting table no aspetta lo faccio dentro l'auto crafting table c'è no questo qua non lo voglio si ok vado a triunfare c'è gente pò a sta merda oddio ho detto una parola da nerd hai detto troppo una parola da nerd si è che c'ho due dimmi in classe che la dico l'unica cazzo di giorno aspetta azzecco pure chissò guarda di solo il nome tanto il nome non succede niente Roberto e l'altro non lo so l'amichetto suo esatto quelli sono veramente regà quelli fanno paura oh oh è proprio è proprio troppo dico una addirittura così non si chiamano per nome si chiamano col nome di youtube tipo non te lo dico il nome di youtube se no lo riconosco no è vero c'è ragione te lo scrivo io si azzo oddio ma perchè non mi trasporta dovrebbe vieni devi assistere al miracolo qual'è il miracolo sei bene che faccio vedere ma ho visto culo perchè no aspetta non entra la roba non capisco perchè fammi vedere sto miracolo era così o era con la o era così era così era così è appena uscito ta 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 la mfe no lo sai che ti meriti una craftiamo una bambola prendi questa pizza craftiamo una bambola confiabile eh non esiste vabbè facciamo una modda con cui puoi craftare bambole confiabili devi essere talmente tanto nerd per creare una mod che non te lo consiglio di entrare in quello oscuro tunnel beh oh ringrazia i nerd che intanto hanno creato tante mod con cui ti sta a giocare i nerd domineranno il mondo domineranno il mondo domineranno il mondo mazzo spero di no già lo fanno già adesso si ok è già successo ormai il processo non può più essere fermato no è irreversibile allora sto liquido mo io lo devo fa uscire e fa entrare in là quindi così lo metto sopra ok sto mettendo il grano per terra di ciocobbo ok meno male che c'è qualcuno che lo fa e sennò questi do cagano però se questo qualcuno è sempre così volcare guarda un fastidio oddio staccava qualcuno che cazzo sei ah beh c'è un piccolo problema sarebbe no ma piccolissimo sì piccolissimo dimmi eeeh guarda dove eh non entra il liquido perché ah oh oh sì sì che culo ho mosso il pezzo giusto mo mettiamo questo dai che stai a fare che hai tolto il liquid cess no guarda 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 solo dentro il sinistro guarda guarda là infatti guarda 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 se esce un enderperle sei un mago no non esce un enderperle molto meglio ole cazzo eh cazzo si e in teoria potremmo dovremmo fare non potremmo redstone redstone eh questo qua energy empty cell ah fermate proprio se te vado e fallo a te lo fai no no ma lasciamo sta su ma appena nato un lf eh e allora mo so gesù eh no energy siamo un po' troppo blasfemia non è vero no cazzo guardate se ne bestemmiamo ogni due minuti non è vero no io mi trattengo benissimo altrimenti dovresti mettere troppi bip mi hai detto tu l'ultima volta e dovresti dare tanti di quei soldi Albert eh quanto sono magnanimo sei una gran merda sei magnanimo eh sì sì che lo so alber mi fai una cosa dai no perché mi chiederai una cosa che ci vuole Gesù Cristo per farlo non fate io appena adesso 10.000 sì ti conviene perché l'ho fatta veramente senti sai che col titanio ci possiamo fare dei cazzo di cose di di cose della tinker che sono delle bestie col titanio col titanio lo sai come si fa il titanio? non lo sai no immaginavo io però so c'è stato una fila di là per prendere blades e poi non l'ho presi se c'è del titanio in mano non è una bella cosa ah eh sì direi di sì allora albergo vai a vedere se sono usciti altri diamanti se sono che? usciti altri diamanti secondo te che stavo a fare in questo momento albergo sei un po' distrutto ti sento un po' dalla voce che fai secondo te che sono senti a parte che sto distrutto ma andammo a dormire a dormire in che senso? no andammo a dormire andammo a dormire in betaviro è una realtà vera è una realtà vera? sì ma perché tu sei distrutto o perché ti sei rotto il cazzo del registrato? a chi li so distrutto? fa sonno va buona regà bella per tutti eh no aspetta abbiamo fatto un altro figo però facciamo qualcosa di figo poi usciamo ok bella per tutti sto cavolo bella per tutti sto cavolo bella solo per me ah bella per Alberto e ciao a tutti dai no cazzo c'è altro no ok allora boh ecco aspetta blaze no aggiungi c'ho tanta vogliate farmi del male? sì allora se io faccio così cazzo ho scritto male no no ci ho ripensato non finiamolo puntata qua che se fa? ho cercato di fare una cosa ma mi sa che mi sveno oddio dan 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 no abbiamo questo che cazzo se fa? ho che parla con sti richiedi con tin sai che ti dico? mi serve delle ultimo vado là sopra e faccio quello che dico io cioè? se lo dico io o non ti interessa a te? la sopra dove? non lo devi sapere ma ci facciamo una macchina? che macchina? non è che c'è un copper cane? amo due cop eh si aspetta ce l'ho qua ok eh quella è la cesta tecnica se tu ascoltassi le mie cose che ti sto dicendo no io io ero qua Grazie a tutti.